Ciao amici, stavamo giusto guardando il nostro vecchio video, amici fra pochissimo facciamo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, saraylina, come state? Bene, spero che avete passato bene questa settimana, come è andata? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, grazie, l'abbiamo passata benissimo questo weekend, grazie Alhamdulillah Sara e Lina, sono veramente molto contenta che l'avete passata bene però adesso cari miei, dobbiamo ripassare quelle cose che abbiamo fatto nella nostra prima lezione Inizi tu per prima Lina, a chiedere a Sara le prime tre domande quelle che abbiamo imparato nella nostra prima lezione Ma ti ricordi quali erano? Ma rabbuk, me dinuk, me ne biyuk E tu Sara, logicamente, devi rispondere quelle risposte giuste Una volta, avete finito, fatti il cambio Sara devi chiedere tre domande e Lina deve rispondere Avete capito adesso? Dai, siete pronti bambini? Si! Sara, man rabbuk, rabbi allah azza wa zan Man dinuk, dini el islam Man nabiyuk, muhammad sallahu alayhi wa sallam Man rabbuk, rabbi allah azza wa zan Man dinuk, dini el islam Man nabiyuk, nabiyin muhammad sallahu alayhi wa sallam Bravi bambini, sono veramente molto fiera di voi Se vedi che l'avete imparate bene quelle cose che abbiamo imparato nella prima lezione Però adesso dobbiamo ripassare anche quelle cose che abbiamo imparato nella seconda lezione Che era sulle cinque pellastre dell'islam Vi ricordate bambini? Cosa me potete dire? Sulle cinque pellastre dell'islam Ricordate almeno qualcosa? Cosa me potete dire? Le pellastre dell'islam sono Cinque El shalase El salas El zeket Saumu Uhajju Si 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 Qualcosa me lo ricordate ancora? Però io bambini voglio spiegarvi tutto con i dettagli Così capirete le cose meglio Perché noi bambini dobbiamo capire le cose bene Dobbiamo ragionare Allora siete pronti a capire bene queste cinque pellastre dell'islam bambini? Ehi si! Inizio con Telina Riesci a spiegarmi letteralmente cosa significa pelastre? Cosa sono e dove si trovano e per chi cosa servono le pellastre? Per chi tu sappia, ma cosa sono questi pellastri? Le pilastre sono le colonne, cioè riescono a mantenere in equilibrio gli edifici più alti e più grandi E' vero I pellastre, in poche parole, sono le colonne che mantengano il tetto di un edificio per sostenerlo Che è molto importante per mantenere il tetto di un edificio Se no, il tetto di un edificio cade Dà la stessa importanza che hanno le pellastre per gli edifici Anche le pellastre dell'islam sono molto importanti per ogni musulmano Le cinque pellastre dell'islam per ogni musulmano praticante le deve fare Per forza, sono obbligatorie Per questo motivo che le abbiamo similate alle pellastre Perché sono una cosa fondamentale, una cosa molto ma molto obbligatoria Per ogni musulmano la deve fare In parole più semplici, se non fai queste cinque pellastre non sei un musulmano Iniziamo con la prima cosa In poche parole, queste qua sono le due testimonianze Dove tu testimoni che Dio è unico E che Muhammad sallallahu alaihi wasallam è il suo profeta Questa testimonianza sarebbe le chiave per ogni musulmano per entrare nella regione islamica Sapete perché dobbiamo dire queste due testimonianze? Perché prima dell'islam la gente guardava nel cielo e vedeva il sole e diceva Ah è questo Dio Allora andavano a pregare il sole E altra gente vede la luna e dice Eh questo è Dio Allora andavano a pregare la luna E vedono il fuoco E andavano pure a pregare il fuoco Hanno pure pregato anche i sassi Hanno pregato tantissime cose Ma tantissime cose Sono arrivate a un certo punto Che per uno c'è su Dio A uno crede che Dio è una cosa Quello crede in un'altra Fino che è arrivato l'islam Che l'ha portato il nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ha detto di no Dio è unico Dio è grande Dio è creatore E noi siamo le sue creature E in poche parole Lui che ha creato tutto Dio che ha creato il sole La luna Le montagne Le alberi Il mare Gli animali Il fuoco Il vento Noi musulmani Crediamo questo E crediamo che Dio Non è stato mai nato Perché se lui è stato nato Significa che dovrebbe morire Noi crediamo Dio Non è stato mai nato Non morirà mai Non è mai sposato Mai ha avuto figli In poche parole Lui è Dio Il più grande Il più forte E l'unico in questo mondo Non esistono centinaia di Dio Esiste solo un Dio unico Che si chiama Allahu subhanahu wa ta'ala E l'altra metà E l'altra metà della testimonianza È il profeta di Dio È una persona benedetta Lui che ha fatto per noi Tantissimi sacrifici Per fare arrivare a noi l'Islam Lui che ha spiegato a noi l'Islam Che ha fatto capire le sue regole Cosa dobbiamo fare Quelle cose che non dobbiamo fare Ha fatto tutte queste cose Con amore Perché Lui ci voleva bene Sì bambini Lui ci voleva molto Ma molto bene Perché Lui Ha fatto questi sacrifici Perché amava noi E voleva che tutti noi Andremo in paradiso Inshallah Perché Lui ci vuole tanto Ma tanto tanto bene Lui il nostro salvatore Per tutte quelle cose Dobbiamo amarlo Aspettarlo Ascoltarlo E seguire le sue indicazioni Cari miei Pertroppo Oggi finisci qua La nostra lezione Ricordate bene Che oggi Abbiamo imparato Il primo pillastro Dell'Islam Che sarebbe Asshahadatan E si dice Asshahadu anna La ilaha illallah Wa asshahadu anna Sayyidana Muhammedan Abduhu wa Rasul Adesso Pertroppo Devo salutarvi E ricordatevi Che nel prossimo video Continuiamo a spiegare Le pillastre dell'Islam Adesso Ilalliqa Assalamualaikum Ah Amici Oggi abbiamo finito Purtroppo La lezione Con Muhalima Emina Quindi amici Oggi abbiamo imparato La prima Pillastra Dell'Islam Adesso Vi dobbiamo Salutare Perché Oggi Abbiamo Già Fatto la mia lezione Quindi Vi dobbiamo Salutare Ciao 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 Ciao